Metà autunno, da qualche parte a nord-est dei monti Grampiani. Le forti raffiche di vento gelido investono le colline, preannunciando l'inverno. Centinaia di guerrieri caledoni di varie tribù si aggruppano ai piedi del monte Graupio. Sull'altura il gruppo osserva la inusuale adunata. Tra di loro vi è il comandante in carica, un capoguerriero di nome Calgaco. In seguito un'altra adunata appare all'orizzonte. Divenne subito chiaro che non era un'altra tribù giunta per unirsi ai caledoni. Un'imponente armata imperiale romana avanzava con lo scopo di debellare la resistenza armata regionale. Calgaco realizzò che i suoi uomini avevano passato il punto di non ritorno. Una delle più grandi battaglie a cui i caledoni assisteranno stava per cominciare. Buzz Battles presenta La battaglia del monte Graupio, 83 d.C. È l'inizio del 78 d.C. Sono passati 35 anni da che l'imperatore Claudio ha inviato il generale Aulo Plazio ad espandere il dominio romano nell'isola di Britannia, una vasta isola a nord-ovest della frontiera imperiale. Per Claudio rafforzare i confini dell'impero era un eccellente modo per legittimare il suo incerto futuro come Augusto e la Britannia sembrava il perfetto bersaglio per cominciare, anche a causa di alcuni problemi oltre il fiume Reno. Così, nei due decenni a venire, quattro legioni dilagarono nel sud dell'isola, imponendo il loro dominio sulle tribù locali. Nell'estate del 77, quando la romanizzazione della Britannia romana era ancora in atto, un nuovo governatore fu incaricato di supervisionare il processo. Gneo Giulio Agricola, confidente dell'imperatore, non era di certo alle prime armi negli affari delle province, dato che passò il decennio come comandante militare sotto i precedenti governatori, ottenendo esperienza nel combattere le tribù nelle frontiere a nord. Ora, diventando il più importante ufficiale romano della provincia, Agricola organizzò una spedizione per provare la sua forza, espandendo i domini di Roma. Spedizione che fu messa in moto un anno dopo la sua nomina. Prima, Agricola si assicurò la pace nei territori già occupati. Così, dal 78 al 79, fu impegnato nel reprimere le tribù ribelli nelle terre oggi conosciute come Galles e Nord dell'Inghilterra, dato che gli Ordovici e i Briganti, una volta sconfitti, restabilirono la loro indipendenza. Queste campagne furono rapide e diversi forti romani furono costruiti nei dintorni per assicurarsi l'obbedienza delle tribù in futuro. Con le retrovie ora al sicuro, Agricola iniziò a pianificare la spedizione a nord. All'inizio dell'80 d.C. i romani lanciarono diverse campagne militari penetrando nei territori dei Caledoni. L'avanzata di Agricola fu ben pensata e ben esiguita. Molti forti accampamenti furono eretti durante l'avanzata a nord per incrementare la loro salvaguardia e dissuadere le tribù locali a lanciare attacchi a sorpresa. Per di più, l'avanzata romana era accompagnata dalla flotta via mare, la quale aumentava il potenziale bellico della spedizione italica. Inoltre, Agricola fece buon uso delle risorse terrestri e navali dell'impero per piegare altre regioni e le sue tribù. Nell'anno 82 passò il confine del fiume Forf, assicurandosi l'area sopra l'arcipelago. Vi starete chiedendo perché i vari capi tribù dei Caledoni non si sollevarono per combattere l'invasore e per la loro libertà? C'erano un paio di ragioni al riguardo. La prima, che già abbiamo menzionato, è che Agricola spese molto tempo in Britannia e già sapeva delle varie tattiche e capacità delle tribù. Inoltre, lasciava ben poche opportunità per agire contro i Romani. I Caledoni non erano solo tecnologicamente inferiori, ma anche indietro anni luce in termini di organizzazione e disciplina. Quindi ogni attacco da una piccola coalizione sulle ben difese e fortificazioni dell'esercito imperiale era destinata al fallimento. Cosa che ci porta alla seconda ragione. Una distinta mancanza di unità tra i nativi. Dato che Agricola aveva diverse centinaia di ben equipaggiate unità al suo comando, se i capi tribù dei Caledoni speravano di affrontare i Romani, una grande confederazione, unita contro il comune nemico, era necessaria se vi era una sola speranza di fermare la macchina bellica imperiale. Mentre i Romani avanzavano in profondità senza segni di una capace opposizione all'orizzonte, i Caledoni realizzarono che l'unica via per fermare i Romani e salvaguardare la loro indipendenza era di mettere da parte le faide interne e unirsi contro il comune nemico. Ci volle un po' di tempo per i capi tribù per mobilitarsi. A fine estate dell'anno 83, 30.000 guerrieri Caledoni risposero alla chiamata lanciata da un capo tribù Caledone, chiamato Calgaco, ai piedi del Monte Graupio, nelle Highlands orientali. Ovviamente Agricola era ben conscio della minaccia e nonostante le sue legioni furono inferiori, data la richiesta urgente di nuovi rinforzi per l'impiego imperiale oltre il Reno, era determinato abbattersi con l'alleanza e schiacciare la loro posizione ai Romani. L'armata imperiale giunse sul campo di battaglia in autunno, proprio sul finire dell'anno. La vista di un'immensa armata tribale assemblata alle pendici della montagna doveva essere stata imponente anche per i legionari più veterani. Una innumerevole massa di fanteria, coi fianchi coperti dalla cavalleria leggera ed una prima linea di carri bretoni, formava l'armata Caledone. Ma Agricola sapeva che le sue forze non erano inferiori. Senza dubbio aveva a disposizione meno soldati, che formavano sì e no 20.000 effettivi, ma la loro esperienza militare era senza dubbio migliore rispetto alle truppe delle tribù. Un fulcro dell'esercito di Agricola era formato da un'intera legione e un'altra non del tutto completa di soli 8.000 legionari nelle retrovie. In prima linea, vi erano gli ausiliari concessi dagli alleati dell'impero, anche loro 8.000 in totale. La fanteria era protetta da diverse unità di cavalleria ausiliaria romana. Quando le formazioni furono pronte, la fanteria romana iniziò l'avanzata verso il nemico, con i fianchi coperti dalla cavalleria. In risposta, Calgaco fece avanzare i nobili bretoni a guida dei carri, in modo da indebolire il nemico e spezzare la loro linea. Gli ausiliari romani, formati per lo più da fanti ordinari che fanti corazzati, aprirono la loro linea per resistere ai carri. Come risultato, il tentativo iniziale di indebolire la linea romana portò solamente scarsi risultati per Calgaco. Gli fu dato poco tempo per pensare, poiché mentre i carri venivano distrutti, la cavalleria romana attaccò la controparte Caledone, cercando di eliminare il rischio di essere circondati. Dato che le unità a cavallo erano male armate e organizzate, la lotta sui fianchi fu impari e per i cavalieri Caledoni, senza una buona guida, finirono in rotta, cacciati dal contingente romano. La situazione sembrava tragica, ma i bretoni speravano ancora nella vittoria. La fanteria Caledone, essendo inferiore di qualità e disciplina, era ben numerosa e ben posizionata sull'altura. Le prime linee si scontrarono e lo scontro principale iniziò. Agricola fissava lo scontro a distanza, con fiera sicurezza. La prima ondata di fanti romani consisteva in ausiliari germanici e galli, addestrati proprio per affrontare lo stile bellico bretone. Usando il famoso gladio, i legionari ottennero velocemente il vantaggio nello scontro ravvicinato contro i Caledoni, che lottarono con onore, ma la loro ambizione non poteva cambiare le sorti della loro coesione e dell'armamento scarso. Quando la prima linea cadde sotto i colpi dei romani, i Caledoni rimasti erano molto più che poco recupergiati, senza alcuna esperienza di battaglia. Tuttavia, il vantaggio numerico era ancora una minaccia. Le unità in retroguardia, essendo ancora intatte, tentarono di circondare i fianchi della prima linea in un ultimo disperato tentativo per vincere. Ma Agricola era preparato a ciò. Prese le sue migliori unità di cavalleria e le mandò all'attacco. La cavalleria imperiale bloccò i Bretoni, causando enormi danni e distruggendo ogni speranza che ancora avevano di vincere lo scontro. In seguito, con i morti ad aumentare e nessun altro piano per fermare i romani, i Caledoni fuggirono dalla battaglia, cercando di salvarsi la pelle. La cavalleria di Agricola tentò di aggiungere ulteriori perdite, ma quando i Bretoni raggiunsero la foresta, furono salvi dal massacro. Secondo le fonti primarie, solo 360 romani furono uccisi rispetto alle centinaia di perdite bretoni ai piedi della montagna. Fu una grande vittoria per Agricola, che presto fu richiamato a Roma e decorato dopo un inusuale periodo come governatore di Britannia. Sebbene fu detto che Roma riuscì a sottomettere i bretoni, in realtà l'occupazione della Caledonia finì qualche anno dopo, data la necessità urgente di truppe su un altro fronte. Molti legionari lasciarono l'isola e chi rimase si posizionò sull'estuario di Solway, dove il celebre Vallo di Adriano fu costruito qualche decennio dopo.